Sono nella prima classe di un treno da 200 euro Io invece sono in super economy Il nostro obiettivo riguarda Bologna-Milano Tra un'ora parte il treno, io ho 15 euro a disposizione Lui ha soldi infiniti Che inizi la sfida Allora il primo obiettivo è quello di recuperare un ombrello Un giorno come questo è impossibile che non ci sia uno che venda gli ombrelli Io invece sto comodissimo perché tecnicamente con il biglietto express Dovrei avere anche la lounge, la lounge, non so come si pronuncia Però la stazione è immensa Quindi onestamente non so neanche dove andare Guarda chi ho trovato Dove c***o vai? Vai, leggi il libro Raga, sono arrivato Bast***o Prezzo a lounge Mi dispiace troppo per lui Foretto, foretto, guardatelo Vado, è la prima volta nella mia vita che provo la lounge Ah ok, devo scannerizzare il biglietto Ciao, scusami Sai dove posso trovare un ombrello per caso? Quanto è quello da me la faccia io? Sei inovanza Che l'amoroso che sei, 90 euro buttati solo per l'ombrello Ma come non mi fa cedere? Ah, grazie mille Grazie Salve Non riuscivo ad accedere, le faccio vedere il biglietto No perché quando provavo a scannerizzare Grazie mille, grazie Ma qui è tutto gratuito Ah ok, perfetto È la mia prima volta Sto giusto avendo un po' di difficoltà nel fare questo c***o di video Non è stata la migliore delle idee Diciamo che la situazione è un po' così Ho già speso 6,90 Questa dei 15 euro che ho a disposizione Devo andare assolutamente in bagno Ma c'è un bar dietro di me Ragazzi sono finiti nel locale fuori di testa Per il bagno No, 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 no Ragazzi non avete capito niente No ragazzi No ragazzi Cioè Assurdo Mi è fuori di testa sta roba Mi sto rientrando Oddio No ragazzi Allora Un po' va bene ma Qui stiamo rasettando i livelli dell'impossibile Chissà c***o come se la sta spassando nel frattempo Però tutto gratis Cioè questo qui è gratis E posso ricaricare all'infinito Devo essere onesto però Mi sento un po' a disagio Perché mi sento fuori luogo qui C'è tutta gente che sta lavorando Io faccio finta di lavorare Ok Grazie mille Godo raga Godo Samu starà rosicando Grazie Per il bagno di là giusto? Ah ok Grazie Niente male raga Non ho mai visto un bagno pubblico così profumato Ok bro Tutto mi sarei aspettato nella vita Tranne che recensire il bagno della lounge di Tren Italia Pulisissimo Bene Il mio bagno Il mio bagno delle donne Infiltriamoci Questo uguale Chiamiamo Samu mentre cago Sto cagando Dove sei fra? Finisco il panino adesso Hai quasi finito il budget? Ho finito il budget Ah ok top Devi provare ad infiltrarti nella lounge Ciao 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 Ma che architetto sono raga? Che architetto germofobico sono? C'è un piccolo problema Ehi Rientrato in stazione come minimo domani era freddore garantito Raga porco diaz quanto freddo ho preso Devo trovare il modo di infiltrarmi nella lounge Ma ragazzo è la reception davanti Però mi devi far entrare in lounge Aspetta Aspetta È impossibile Fra c'è la reception davanti Aspetta Ferma Fermo Fra c'è la porta che si No 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 Fra vieni qui Passa dove è la stazione Vai proprio dove stanno i binari Ti apre la porta Si apre la porta Dov'è? Dov'è? Aspetta Esco un attimo fuori Io entro e rimango qui e c'è un controllo C'è un controllo C'è un controllo Aspetta Le valigie dove le hai messe? Qui Vai Arriva Leva Leva Assurdo Prendo il mio computer L'abbiamo infiltrato L'abbiamo infiltrato Faccio finta che sono la porta Dai io ti giuro sono la persona più fuori luogo qui dentro Ma del visto smettendo di cui parlavamo prima Aiaiaiaiaia Da Venezia a Londra 2 ore 20 Ma l'avrà capito Lo sto registrando meglio comunque Dici Hai preso Ma questi sono gratis? Sì No vabbè Fra sono gratis per me Non per te Tu sei infiltrato Ti do 5 euro Se lo urli Fortissimo Perché devo fare sti Che d***o Oh Carlo ascolta I sottotitoli Come intro Poi metti Le date Sempre due settimane prima Carlo Mi sa che Carlo Mi sa che Carlo ha le airpods Carlo Stop Abbiamo fatto la sposta E chiaramente L'ha preso pure per me Ciao grazie mille Ciao Raga ho visto Raga ho visto Cazzo passare Con un'altra roba in mano Scrocato pure l'acqua Travoro Grazie Adesso c'ho la business C'ho la letta executive No io sono super economy Ma tu cosa ne pensi Della crisi climatica? Non lo so Solo che c'è il treno Corri Corri Raga direi che fa freddo No me ne sono giusto accorto Quando sono uscito alla stazione C'ho l'ombrello Che mi si distruggeva A 6 gradi C'è un clima così Non l'ho mai visto Troppo freddo Io non sono così contento Ciao Ciao povero Non sono così contento Raga so troppo curioso Cioè puoi essere pure Che mi sto fomentando Tanto per un qualcosa Che in realtà È una carrozza normalissima Non lo so Sono curioso Vediamo In ogni caso Prima carrozza Eccoci Grazie Il posto 3A Perché non ci sono i numeri qui Ah ok Questo qui La figata La figata Sì grazie 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 It's me Grazie Qui dentro però è appena uscita la signora Quindi comprensibile Vi giuro un bagno così pulito In tren Italia Non l'ho mai visto Raga assurdo è pulitissimo Anche se di base è uguale a quello lì delle altre classi Da quel che mi ricordo Completamente uguale soltanto più pulito C'è più cura nei dettagli Guarda qui In generale questa esperienza mi sta piacendo tantissimo Però è troppo da ricchi Ho cibo infinito Adesso ne chiedo altro Sono contentissimo Esco perché alla fine non devo fare niente No no non l'ha controllato Grazie Obiettivo fare entrare Samu in Executive Class gratis Ci proviamo eh Grazie È possibile anche un bicchiere di vino rosso? Sì È piccolino Guarda come è bellino Mi lascio la bottiglia? No no va bene così Ok grazie Ho voluto prendere la bufala campana Perché io so di Salerno Vicino un battivaia Quindi sono un esperto Vediamo Dire che fa stifo È dire poco Cioè freccia rossa per tutta l'esperienza assurda Ma la mozzarella Ho preso vino rosso Faccio finta di capirci qualcosa Se vuoi puoi lasciarmela la bottiglia Sì Te lo lascio subito Ok Grazie mille Ok bro Ok Calmo Calmo Basta Non c'è bisogno Intanto mi sono spostato al tavolo Che usano i grandi imprenditori Per fare i meeting Regà Una sedia così comoda Non l'ho mai vista No No fra No ok devo arrivare Ok Parto 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 Sì sì mi porto tutto Mi porto tutto Ma arrivo Arrivo E ho appena dato il via libera Capo Sta per arrivare Sto per infiltrarmi Delle executive classi di cazzo C'è un controllore davanti Agli occhi Vado Ok No va bene va bene Bravo Bravo brava Non hai idea di come ho schivato il controllore Vado 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 Arrivo 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 Ok sto procedendo tutto al meglio Non so quante carrozzi mi mancano E spero di stare andando nella direzione giusta Prima ho evitato il controllo Dove hai una maniera fuori in testa Ho fatto pinta di stare in chiamata Però c'è però un'altra stacola piena di controllo della carrozza bistro Sono in carrozza 2 Sto arrivando Ascolta Devi fingere di stare in chiamata Ok Va bene Tu stai in chiamata in panna Esatto 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 Sì sì sarà il 3 mi sembra Sì il 3 Vicino Greenwich Dove essere vicino Ok Sì dovrebbe essere qui vicino Qui vicino Greenwich Sì Ok Stai in scendere Vai Da Questa è passata il controllore Che mi porta a chi da Oddio raga Ok bro Ok bro Il viaggio più bello della mia vita Il viaggio più bello della mia vita Sono passato nella carrozza Mi stroveranno tutti così Allora bro gradisci spumantino vino Ma te l'hai già iniziato Fra io sto già mezzo ombriaco Cosa vuoi Allora fra assaggia il suo spumantino Che è spaziale Non ne capisco niente di vini Ma sto vino è spaziale È sicuramente un Monte Falcone Sì 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 E non perché io C'è scritto Raga è troppo bello È troppo bello Mi sto divertendo davvero Troppo Te lo giuro Mi perdoni Mi perdoni Mi perdoni Certo Mi perdoni Potrebbe rifazzire il mio minimo Certamente Fateli Me lo senti Così la sua macchina Ma fa sì sì Addirittura Mi ha lasciato Tutta la bottiglia Di vino Ti faccio Il controllore ora Oh yeah Let's go Venga fammi immaginate Se entra il controllore Ora Piano Piano No 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 Fra mettiti come stavi prima Fra mi fa tutto Non ti vuole Non ti vuole Fra 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 l'ho salvato col piede Così Mi è caduta qui No fra fermiamoci Stiamo eseggiando Basta Fermiamoci Basta Let's go Let's go Arrivati a Milano Let's go Allora in executive class Bellissimo Brava alla fine Assurdo È stato easy sto viaggio No È stata un'esperienza figa Allora devo ammettere che l'executive Non vale i soldi Infatti noi Non è vero Li vale Non è vero Frenitalia Collaboriamo Vi voglio bene Li vale Ciao C'è peccato